Bentornati su Recensioni per Scegliere, come vedete siamo in giardino e oggi vi parlo delle forbici e tagliabordi di Ego Power Il marchio Ego Power produce prodotti per il giardinaggio di alta qualità a batteria e sul canale l'abbiamo già visto con il rasaerba elettrico di cui vi lascio un link qua sopra nelle schede se non avete ancora visto il video In questo video invece parliamo delle forbici a batteria, sono il modello CHT 2001E e sono lo strumento essenziale per una manutenzione ordinaria del giardino Sono infatti la soluzione perfetta per effettuare i tagli dell'erba, del prato in tutte quelle zone in cui il tagliabordi non arriva quindi magari rifiniture di bordi o di aiuole dove dobbiamo effettuare un taglio preciso di tutta la bordatura o zone in cui appunto il tagliaerba non riesce ad arrivare in modo preciso e vogliamo appunto andare a rifinire il prato in modo ottimale ma grazie appunto alla possibilità di andare a collegare ben due lame differenti la lama tagliaerba ha una larghezza di taglio di 11,5 cm mentre invece la lama tagliasiepi ha una lunghezza di 20 cm e uno spazio tra un dentino e l'altro di 8 mm per quanto riguarda il funzionamento andremo semplicemente a inserire la batteria nella parte posteriore e siamo pronti per lavorare per azionarlo tasto sotto ma abbiamo ovviamente la sicura nella parte superiore quindi vado a schiacciare il tasto di sicurezza e poi lo vado ad azionare io lo utilizzo ad esempio in questa zona dove non riesco ad arrivare con il tagliaerba e vado a rifinire l'erba in modo perfetto andandomi ad appoggiare anche sul pavimento in finta erba e andando a tagliare l'erba alla stessa altezza anche con l'erba molto alta e folta riesce a tagliarla bene nella parte alta come vedete è presente un indicatore sulla durata della batteria vado a sostituire la lama doppio clic laterale la andiamo a staccare e montiamo l'altra anche per questa lama andremo semplicemente a inclinarla e incastrarla fino al click adesso siamo pronti per effettuare il taglio delle siepi io la metto in prova direttamente qua sul pino vado ad azionare la lama ed effettuiamo il taglio rispetto ad altri tagliabordi che ho portato sul canale come vedete la lama taglia veramente benissimo non bisogna fare alcuno sforzo basterà passare la lama vicino ai rami ovviamente non di grandi dimensioni ma il taglio avviene veramente in modo immediato con un prodotto di questo tipo sarà molto semplice andare a dare delle forme alle vostre piante andare a dare forme alle vostre siepi e nel mio caso sarà molto semplice andare a sistemare la forma del mio pino per quando arriverà Natale all'interno della confezione troviamo poi ancora carica batteria e batteria agli ioni di litio da 12 volt 2 ampere che a piena carica ci permette 70 minuti di autonomia il montaggio della lama è semplicissimo basterà infatti inserirlo e farlo scattare e poi andarla a sostituire altrettanto semplice con i due tastini laterali già in questi piccoli particolari si vede la qualità di un prodotto perché noi abbiamo già portato sul canale altre forbici tagliabordi simili a questa ma ad esempio l'apertura e il passaggio tra una lama e l'altra era molto più complicato e a rischio di rottura del prodotto ogni lama viene fornita della sua protezione anche questo è un altro fattore che va a caratterizzare la qualità del prodotto come avete visto quindi forbici e tagliastiepi Diego Power sono un accessorio fondamentale nella manutenzione di un giardino o di un terrazzo di grandi dimensioni ci permettono di effettuare tagli di erba e rami di piccole dimensioni in modo molto semplice senza alcuno sforzo il peso delle forbici senza batteria è di circa un chilo con la batteria arriveremo a circa un chilo e mezzo quindi molto molto comodo da maneggiare grazie all'impugnatura rivestita in silicone molto ergonomica la presa ma soprattutto devo dire ottima la lama per andare a tagliare le siepi che senza alcuno sforzo ci permette di andare a modellare le piante e andare a rendere il nostro giardino ancora più bello fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete acquistato un tagliastiepi nel caso come vi siete trovati se vi devo consigliare un modello questo sicuramente anche se costa qualcosa in più rispetto al modello che avevo già portato sul canale è assolutamente meglio e vi permette di ottenere un risultato migliore nel taglio delle vostre piante per qualsiasi domanda lasciate pure un commento qua sotto rispondo sempre a tutti se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana su recensioni per scegliere per questo video con le forbici Diego Power è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico ciao 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 ciao